GF VIP, Edoardo Donnamaria squalificato Signorini, sei richiamato più volte Antonella Fiordelisi in lacrime. La scorsa puntata erano stati avvisati, ma nessuno di loro poteva immaginare che il grande fratello VIP avrebbe preso un provvedimento così duro. Durante la diretta di giovedì 9 marzo Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica per Edoardo Donnamaria a causa di un panino. Ma andiamo con ordine. Dopo la reprimenti di lunedì scorso in cui Alfonso Signorini aveva avvisato i conrenti di darsi una regolata. Nella casa il clima è cambiato. Ma è bastato un panino per sconvolgere tutto. Un'ennesima lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il volto di forum è esploso mi hai rotto le pae Antone, non so come dirtelo. Ma hai rotto le pae. Ho fatto panini a tutta la casa e mi devi pure rompere il cao. Mannaggia oh, porca puana. Un atteggiamento che non poteva restare impunito, ma nessuno si aspettava un provvedimento così duro. Soprattutto perché in passato c'è stato decisante di peggio. Ti giuro mai avrei voluto alzarsi questa mano dice Signorini a Donnamaria ne avevamo parlato personalmente anche in confessionale. Mi hai confessato di essere al limite però purtroppo ieri pomeriggio, mentre preparavi quel panino nei confronti di Antonella hai alzato il tiro e superato il limite. Sei stato richiamato più volte, fino all'ultimo e quando ho visto quella scena lì non avrei mai voluto vederla, mi spieghi perché? Dopo la nostra cacchierata mi sono controllato ha spiegato Edoardo Donnamaria ma in quel momento ero molto deluso perché avevo fatto delle cose per Antonella. Mi dispiace. Sono molto deluso e dispiaciuto dice il condottore in questi mesi siamo già intervenuti per condannare dei comportamenti fuori controllo e il vostro linguaggio eccessivamente volgare. Voi entrate nella casa della gente, non va bene. Edoardo siamo stati spesso tolleranti con il gruppo e con te in particolare. Dopo il mio ultimo richiamo come se niente fosse, hai avuto l'ennesima reazione esagerata con atteggiamento aggressivo e intollerabile. Le conseguenze sono inevitabili, sei ufficialmente squalifica dal gioco. Perdiamo uno dei protagonisti di questa edizione. Proprio nella nostra chiacchierata avevamo detto Edoardo se non stai bene esci. Non so che dire, mi dispiace, ma soprattutto per Antonella che non se lo merita, conclude Donnamaria. Grazie a tutti. Grazie.